Preghiera contro il maleficio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Chiri e Leison, Signore Dio nostro, sopra la nuova secola, inipotente e onnipossente, Tu che hai fatto tutto e che tutto trasformi con la Tua sola volontà, Tu che a Babilonia hai trasformato e inruggiata la fornace sette volte più ardente e che hai protetto e salvato i Tuoi santi tre fanciulli, Tu che sei dottore e medico delle nostre anime, Tu che sei la salvezza di coloro che a Te si rivolgono, Ti chiediamo, Ti invochiamo, vanifica, scaccia e metti in fuga ogni potenza diabolica, ogni presenza e macchinazione satanica e ogni influenza maligna, ogni maleficio e un malocchio di persone malefiche e malvagie operate sui Tuoi serbi, fa che in cambio dell'invidia e del maleficio ne consegua abbondanza di beni, forza, successo e carità, Tu Signore che ami gli uomini, stendi le Tue mani possenti e le Tue braccia altissime e potenti e vieni a soccorrere e visite quest'immagine Tua, mandando su di esse l'angelo della pace, forte e protettore dell'anima e del corpo, che terra lontana e scaccerà qualunque forza malvagia, ogni beneficio o malia di persone corruttrice e invidiosi, così che sotto di Te il Tuo supplici e protetto con gratitudine e di canti, il Signore è il mio soccorritore e non avrò timore di ciò che potrà farmi l'uomo, e ancora non avrò timore del male, perché Tu sei con me, Tu sei il mio Dio, la mia forza, il mio Signore potente, Signore della pace, Padre dei secoli futuri. Sì, Signore è Dio nostro, abbi compassione della Tua immagine e salva i Tuoi servi da ogni danno o minaccia proveniente da maleficio e proteggilo, prendendolo al di sopra di ogni male, per l'intercessione della più che benedetta e gloriosa Signore, la Madre di Dio e sempre Vergine Maria, del risplendente Arcangelo e di tutti i Tuoi Santi. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti.